È la festa della mamma e noi come donne impresa col diretti vogliamo essere vicine alle nostre sorelle provenienti dall'Ucraina. È grande la rete di solidarietà in tutta Italia che è nata in maniera davvero spontanea, una spontaneità che è tipica delle aziende agricole e in particolare di quelle al femminile. Queste donne vengono accolte nelle nostre aziende e vengono immediatamente integrate con il dialogo ma anche con le attività in base alle proprie possibilità. Da nord a sud ci siamo unite per cercare di dare un attimo di sollievo a queste signore perché le consideriamo nostre sorelle. L'agricoltura da sempre è solidale, siamo accanto anche a tutte le varie associazioni che al nostro fianco vogliono essere unite per portare solidarietà a queste persone.